Nel 2009 decisi di acquistare un pezzamento di terreno proprio lungo la via lauretana e di dedicarlo proprio a delle piante aromatiche. Decisi di inventare questa strada con l'obiettivo di realizzare delle spezie, degli aromi da cucina principalmente, ma in realtà poi si prestano per usi più diversi dall'omeopatico al cosmetico. Parte della mia azienda ricade proprio in una zona SIC, cioè un sito di interesse comunitario, considerato importante proprio perché a tutela vi sono delle specie in via di estinzione, sia animali ma anche vegetali. Il fatto di trovarci in un'area così importante da un punto di vista della biodiversità ha fatto sì di incentivarci anche noi prima persona in alcuni progetti, quali ad esempio quello della tutela dell'iris florentina che è una specie a rischio di estinzione genetico di cui siamo diventati come azienda coltivatori custodi. Ci impegniamo pertanto non solo alla coltivazione ma anche a fornire alla banca del germoplasma dei semplari di rizomi proprio per garantirne la salvaguardia.